Quando eravamo adolescenti, Dila per noi era il profeta, il Messia. Le sue canzoni di protesta incarnavano il nostro spirito libero. Oggi, 50 anni dopo, possiamo dire che Bobby è il più grande poeta del Novecento? Lui canta, sto cercando di giungere in paradiso prima che chiudano la porta. Noi allora bussiamo ancora una volta alla sua porta, come abbiamo fatto già tante volte in precedenza. La porta di Bobby è per caso quella del paradiso? Noi allora bussiamo ancora una volta alla sua porta. Noi allora bussiamo ancora una volta. 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 Grazie a tutti.